Musica Benvenuti al TG10, c'è la pagina della cronaca nera in apertura del telegiornale, vi riferiamo dell'ennesima notte di fuoco che si è registrata a Gela, tra le macchine bruciate due delle quali appartengono al primario del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele Gaetano Orlando. Notte di fuoco a Gela con tre auto date le fiamme da mani ignote, due delle vetture prese di mira appartengono al primario del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, già consigliere comunale del PD Gaetano Orlando di 58 anni. Il fuoco alle due macchine è stato piccato intorno all'1.30. Si tratta di una Fiat Panda e di una Mercedes che erano parcheggiate sotto l'abitazione del primario in via Tina Pica in contrada Marchitello. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale di staccamento e la polizia che ha avviato indagini febbrili. Sul grave episodio il PD di Gela e l'Unione Provinciale hanno manifestato condanna esprimendo vicinanza a Getano Orlando e alla sua famiglia. L'altro incendio si è verificato in via Giulio a Sitacusa al villaggio Aldisio. Intorno alle due è stata incendiata una Fiat Stilo in stato di abbandono appartenente ad un pensionato di 79 anni. Indagano i carabinieri. E i militari dell'arma della stazione di Riesi, in collaborazione con quelli di Palma di Montechiaro, hanno tratto in arresto e in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere un disoccupato palmese di 57 anni. L'accusa è di atti persecutori ai danni della sua ex convivente. La vicenda ha avuto inizio nel settembre dell'anno scorso. Dopo la separazione l'uomo ha iniziato a tempestare lo suo ex di chiamate e messaggi che si erano resi tanto insopportabili da convincere la donna esasperata a sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri di Riesi. I militari, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Caltanissetta, hanno avviato riservate puntuali indagini che hanno permesso di sottoporre l'uomo ad una misura cautelare che lo stesso tuttavia non ha rispettato. L'attenta vigilanza dei carabinieri alla rispetto della misura e le reiterate denunce della donna, sempre più atterrita dalle minacce continue dell'uomo, hanno condotto l'autorità giudiziaria ad emettere un provvedimento restrittivo che è stato eseguito dai carabinieri. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto nella casa circondariale di Caltanissetta. Cambiamo argomento e adesso parliamo di cyberbullismo. Oggi incontro nei locali della Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio. Si chiama CyberLife, il progetto di informazione e formazione sui pericoli della rete, sulla navigazione consapevole ma anche sulla risorsa di internet. I vostri figli navigano sicuri e voi? Se ne è parlato questa mattina nel corso dell'incontro che si è svolto nei locali della Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio di Gela. Durante l'incontro ho esaminato alcuni dati raccolti nell'ambito del progetto. Ho coordinato questo progetto, questo progetto pilota che vede come campione 225 ragazzi dai 10 ai 13-14 anni. Abbiamo fatto anche contemporaneamente un'inchiesta per vedere quali sono i problemi che si incontrano con questo utilizzo smodato di internet. Vediamo che vengono fuori anche alcuni reati come per esempio furto di identità, acquisti online da parte di minorenni, cyberbullismo, da qui abbiamo cominciato una specie di formazione sia per i ragazzi ma soprattutto anche per i genitori perché molti genitori abbiamo notato che non hanno la percezione del reato che commette il proprio figlio. L'attività dell'osservatorio per il contrasto alla dispersione va di pari passo anche con delle ricerche come quelle che sono state condotte dalla Fondazione. Vale a dire attraverso la scoperta di quelle che sono le emergenze relative ai problemi dei nostri ragazzi nel loro rapporto con la rete, nel loro rapporto col mondo digitale, nel loro rapporto con quella che è la nuova socialità, che è la socialità virtuale. Bene, gli studi e le conoscenze che sono state realizzate nell'ambito di queste tematiche sono utilissime per scoprire e per contrastare eventualmente anche casi di grande disagio che i ragazzi manifestano all'interno delle aule e che possono essere prodromici proprio come forme di disagio prodromiche a quella che potrebbe essere la loro dispersione, il loro allontanamento alla scuola. Ecco perché siamo veramente ben felici di avere a suo tempo abbracciato questa iniziativa ma di continuare ad abbracciarla perché è un ulteriore supporto del sociale per un'emergenza importante come quella della dispersione. Viene fuori un'analisi molto particolare, un'analisi che fa capire la non preparazione culturale dei ragazzi e l'abuso che si fa dei mezzi di comunicazione. I social sì sono interessanti ma bisogna essere preparati per l'uso, diventano mezzi per poter fare di tutto e di più, dalla falsità che vola alla foto non autorizzata, al momento di scherzo, al momento anche di offesa tra i ragazzi. È una riflessione che tra poco ripeteremo perché questo incontro serve a restituire all'amministrazione, alla città l'uso che di questi mezzi i ragazzi fanno ma soprattutto la cosa interessante è che noi abbiamo lavorato con i genitori perché i problemi che i ragazzi vivono è un problema di riflesso perché non c'è la preparazione dei genitori all'uso dei social. Individuare nel territorio di Gela tutti i manufatti costituiti con amianto o magari attivando uno sportello dove tutti i cittadini potranno segnalarne la presenza e permetterne così l'immediata rimozione del successivo smaltimento in modo da ridurre al minimo l'esposizione alle relative polveri nocive e tutelare la salute ed il territorio. È la proposta dei consiglieri comunali del megafono Sara Bonura e Maria Pingo indirizzata alla sindaco e al consiglio comunale con una mozione. Davianto a Gela purtroppo si continua a morire in quanto fino ad oggi non risulta che siano state applicate tutte le precauzioni necessarie per evitare l'esposizione alle fibre killer. Il materiale è ancora molto diffuso in città. Le morti da esposizione di amianto potrebbero anche aumentare, dicono Bonura e Pingo, considerato che non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa e pertanto una esposizione prolungata nel tempo e ad elevata quantità aumenta in maniera significativa le probabilità di contrarne patologie associate. Il GAC Unicità del Golfo, costituito dai comuni di Gela, Capofila, Vittoria, Scoglietti, Santa Croce Camerina, Acate, Licata, Butere e Lampedusa non ci sta a diventare strumento politico per danneggiare i territori della fascia costiera del sud della Sicilia perché distanti dai partiti che governano i dipartimenti regionali, come se la valutazione di atti tecnico-amministrativo possa essere influenzata da decisioni di ordine politico. Con una nota formale del 9 settembre scorso il GAC di Gela ha presentato dunque una diffida e una richiesta di accesso agli atti al Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea. La diffida inviata concerne la richiesta di intervento in autotutela e la revisione dei punteggi attribuiti al GAC Unicità Golfo di Gela, mentre l'accesso agli atti consentirà di effettuare una verifica comparata dell'attribuzione dei punteggi ad altri GAC e dei requisiti di ammissibilità. La gradatoria pubblicata allo stato attuale, dice il sindaco di Gela, Domenico Mazzinese, presidente del gruppo di azione costiera, vede il GAC Unicità del Golfo ammissibile ma non finanziabile in relazione alla dotazione finanziaria disponibile pari a circa 17 milioni di euro che la logica avrebbe dovuto immaginare con una distribuzione omogenea tra i 10 GAC ed invece ai funzionari della regione, come al solito, piace complicarsi e complicare la vita ai comuni che versano già in notevole difficoltà proprio dovute alla inadeguata capacità di programmazione regionale. La diffida e l'accesso agli atti serviranno per constatare l'intero iter procedurale sin dalla fase istruttoria. È da rilevare infatti che il GAC Unicità del Golfo da una comunicazione del 24 ottobre scorso risultava già in posizione utile al finanziamento, posizione ottenuta dall'intera valutazione progettuale effettuata nonostante oggi le motivazioni adotte dal dirigente sulla presenza o meno di pescatori nel Consiglio di Amministrazione e alla promozione di impianti di acqua, cultura e trasformazione sovvertono quanto stabilito nella valutazione eseguita dalla Commissione preposta. Il Dipartimento competente è stato diffidato dal Sindaco di Gela e in qualità di Presidente del GAC. Senza le opportune verifiche e l'adozione di provvedimenti tesi a ristabilire la giusta valutazione non ci arrenderemo alla penalizzazione di un'economia su cui si basa l'area siciliana più pregiata nel settore della pesca e del turismo, da Lampedusa a Santa Croce, ha detto il Sindaco messinese. Dall'amorimento, insomma, si potrebbe passare alle vie giudiziarie. I comuni che formano il GAC, Unicità del Golfo, sono sette e comprendono un territorio che mette assieme a oltre 200.000 abitanti, con quasi 200 barche presenti e 150 km di costa. Si attende nei prossimi 10 giorni il riscontro ai dettagli della diffida. È previsto per mercoledì 16 novembre alle 11 al Comune di Gela, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Ascia, il gruppo di lavoro Porto di Gela. Saranno presenti la protezione civile regionale, il responsabile unico del procedimento, Ghetano Calafato, il comandante della Capitania di Porto, Pietro Carosia, il comandante gruppo piloti, Giovanni Canale, e tutti i rappresentanti del gruppo di lavoro Porto di Gela. L'incontro servirà per verificare lo stato dell'iter per l'avvio dei lavori di ripristino della funzionalità del Porto Rifugio, dopo la firma dell'intesa tra Regione e Eni Comune per l'impegno del finanziamento di 6 milioni di euro per il dregaggio dell'intero specchio d'acqua del Porto con l'allungamento del braccio di Ponente. Ad un anno dalla sua scomparsa la pubblica assistenza Procivis di Gela ricorda Giacomo Ferrera, sabato 19 novembre alle 17.30 nella sala congressi della Procivis in via Ossidiana 23 a Gela, donna Raimondo Giammusso celebrerà l'Eucaristia alla presenza dei volontari del mondo del volontariato e di tutti coloro i quali vorranno partecipare. Al termine della messa, alla presenza della moglie Maria Granvillano, seguirà l'intitolazione della sala operativa a Giacomo Ferrera, già coordinatore provinciale della Servizio Emergenza Radio e della Federazione Italiana Ricetrasmissioni. Concluso il giubileo della misericordia ed inaugurati il dormitorio per le famiglie disagiate di Gela ed il centro di spiritualità nazionale dedicato alla misericordia nei locali dell'ex convento dei padri agostiniani. Vediamo. Concluso il giubileo della misericordia nelle diocesi del mondo, l'unica porta santa rimasta aperta è quella di San Pietro che Papa Francesco chiuderà domenica prossima. Ieri a Gela il vescovo della diocesi di Piazza Merina, Monsignore Rosario Gisana, ha preseduto una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento nella chiesa di Sant'Agostino, a pochi passi dalla piccola casa della misericordia dove aveva aperto la porta santa della misericordia. È stata l'occasione anche per inaugurare il dormitorio per le famiglie disagiate della nostra città ed il centro di spiritualità nazionale dedicato alla misericordia nei locali dell'ex convento dei padri agostiniani. Il giubileo finisce ma continua attraverso quello che è l'ordinario giubileo, cioè l'assistenza ai poveri che tutti siamo chiamati a fare. Allora il frutto di questo anno sarà appunto il dormitorio, così anche il centro di spiritualità nazionale della misericordia e l'adorazione eucaristica che avverrà tra un po' di tempo, il tempo che sistemiamo la chiesa di San Francesco di Paola e lì sarà un centro di adorazione eucaristica permanente. Mi sembra molto importante questo momento, questo centro anche dell'adorazione perpetua perché dovrà significare un nutrimento insieme con l'ascolto della parola di Dio, eucaristia, parola di Dio, il nutrimento essenziale per partire con una testimonianza vera dell'Evangelo che è appunto quella del rapporto autentico con i poveri. Presente a Gela anche il cabarettista Roberto Ciufoli della premiata ditta che sabato scorso nei locali del Teatro Eschilo ha portato in scena la rappresentazione con i poveri e per i poveri. Dio aiuta e protegge chi dona con gioia. Allora quando addirittura si può donare gioia vuol dire proprio poter veramente fare qualcosa per qualcuno. Io la gioia spero di averla un po' generata ieri sera con lo spettacolo e quindi siamo tutti felici. L'appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21. Nostro ospite sarà il dirigente scolastico del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, Angela Tuccio. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi lunedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e nonna, cassette audio e video, floppy disk, cd, dvd, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspiraporti, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Riccoci, seconda parte del telegiornale, un entusiasmante momento di amicizia e allegria in un noto agriturismo di Acate, condiviso tra i Lions Club di Gela, Mazzarino e di Niscemi, voluto dai rispettivi presidenti Francesco Butera, Antonino Grasso e Tonino Cilio, per rinnovare la tradizione di San Martino, gustando prelibatezze di stagione e sosseggiando il buon vino novello. Una piacevole giornata con la partecipazione di numerosi soci, di amici e di vari ospiti. Lo stare insieme, ha detto il presidente della Lions Club di Gela, Francesco Butera, contribuisce ad accrescere sempre di più la sintonia e l'amicizia tra i soci, al fine di cementare il gruppo e l'amicizia con i soci degli altri club. I commercianti del Centro Storico si uniscono in una protesta lunedì 14 novembre, in presenza anche di alcuni comitati di quartiere, sindacati e confesercenti. I partecipanti si sono dati appuntamento a partire dalle ore 10 davanti al Palazzo del Carmine. Una manifestazione contro la ZTL e attraverso cui viene anche chiesto che Corso Umberto venga riaperto al transito delle autovetture durante il periodo invernale. Chiediamo che la ZTL venga eliminata, chiediamo anche che questa isola pedonale davanti al comune sia decisamente tolta perché spacca la città in due, si crea una specie di circonvallazione e porta le persone fuori completamente dal Centro Storico, facendo vedere alle persone che vengono da fuori la parte più brutta del Centro Storico. Le nostre difficoltà da due anni e mezzo a questa parte sono quelle che ormai le persone si sono disabituate a scendere in Centro Storico perché trovano lo sbarramento davanti al credo siciliano a sabato pomeriggio. Lì si comincia a creare una coda, arriva fino in Piazza Europa ed oltre, la gente si stanca, chi non vuole aspettare perché c'è almeno mezz'ora di coda, torna indietro e se ne va via. Noi ormai siamo disperati, chiediamo al sindaco e gliel'abbiamo detto tante altre volte di togliere quest'isola, noi non abbiamo nulla contro di lui. Le ZTL purtroppo a Catania, a Palermo, a Milazzo non funzionano più. Quello che chiediamo è una delle tante cose, è un documento che abbiamo scritto e presentato a suo tempo più volte al sindaco Ruvolo. Purtroppo tante volte si tratta di cose anche banali ma a cui non è andato mai seguito, più di promesse non abbiamo mai registrato, promesse a cui non è seguito nessun fatto concreto. Siamo arrivati a questa protesta proprio perché se dopo due anni e mezzo ci convoca e ci promette tavoli tecnici, i tavoli tecnici a noi non servono, a noi servono fatti concreti perché c'è la crisi ed è una cosa, ma c'è anche l'insensibilità e la sordità di un'intera amministrazione che non riesce a dare risposte concrete e soluzioni. Cambiamo argomento, parliamo di sport, calcio e la Gela sbanca roccella e consegue il secondo successo consecutivo. I biancazzurri ieri hanno battuto la formazione Calabra conquistando tre punti d'oro, una vittoria importantissima che è stata costruita con razziocinio dai ragazzi allenati dal tecnico Pietro Infantino. I gol, e li vediamo, sono stati realizzati da Bonanno al quarantesimo del secondo tempo e da Montalbano in zona Cesarini. Grazie al successo ottenuto ieri in Calabria il Gela fa un ottimo balzo in avanti in classifica posizionandosi nelle zone alte della gradatoria a quota 19. A fine gara i colleghi di TV Mia hanno raccolto la testimonianza del tecnico biancazzurro Pietro Infantino. Sentiamo. Siamo con il mister del Gela, Pietro Infantino. Una vittoria meritata? Una meritata sofferta. Una vittoria sofferta. Sapevamo di affrontare, l'avevo detto in settimana, di affrontare una squadra viva, una squadra che ha delle buone individualità. Un allenatore che io stimo, che tiene veramente una squadra che sa giocare, una squadra aggressiva. Sapevamo di avere anche momenti di sofferenza, però alla fine questi ragazzi ci hanno regalato questa grande soddisfazione. Sono contento, gli devo fare i complimenti perché hanno fatto una grandissima vittoria oggi. Con questi tre punti vi inserite nei piani alti della classifica? Ma noi ci siamo dato un obiettivo, quello di ogni domenica di fare il massimo. La frase iniziale della gara è sempre ci siamo promessi di dare tutto e noi continueremo così. Poi alla fine si fanno i conti. Io credo che con questa attenzione, con questa cattiveria agonistica, con questa voglia di essere protagonisti in campo si possono continuare a fare buoni risultati. Chimavate il Rocella, è stato così anche sul campo? Sì, sì, credo che era una squadra molto viva, una squadra aggressiva. Ci hanno messo in grossissime difficoltà, però alla lunga i ragazzi soffrendo, nei momenti di sofferenza abbiamo vinto la partita. E nel campionato di eccellenza precipita la situazione della Terra Nova Gela, sempre ultimo in gradatoria. Ieri Giororossi e Alpresti sono stati battuti per 2-0 dal Mazzara. Per la formazione allenata da Natale Serafino si tratta del terzo K.O. di seguito. Le ricadute sul versante sportivo. Si tratta del progetto di ricerca sperimentale sul movimento umano promosso dalla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Core di Enna, che ha tra i suoi partner anche la Mogela. In città ultimamente, proprio alcuni dei tesserati della società calcistica locale, rappresentanti di tutte le categorie, dalla scuola calcio agli allievi, sono stati i protagonisti di una prima fase pratica del piano. La speciale sessione di allenamento è stata curata da Francesco Sgro, ricercatore di biomeccanica del movimento presso l'Ateneo Ennese. Questo progetto nasce dall'idea e dalle collaborazioni che come università abbiamo ormai istituito da tempo sul territorio, non solo locale, perché noi siamo di Enna, quindi non solo con le realtà locali, ma anche con le realtà dell'intera regione Sicilia, sia a livello professionistico che a livello amatoriale. E in questo scenario, la collaborazione con la città di Gela, anche grazie alla presenza del mister Barresi, che è stato nostro studente, attualmente nostro dottorando di ricerca, e quindi ha garantito la contiguità con le attività, nasce proprio con l'obiettivo di valutare una metodologia allenamento, che è ampiamente utilizzata a livello professionistico, ma con pochi riscontri a livello giovanile. E noi vogliamo valutare se a livello giovanile questa metodologia può avere risultati, sia in termini di maturazione fisica, che in termini di maturazione tecnico-tattica. Alla fase pratica del progetto prendono parte anche dieci studenti della Core, che hanno seguito l'allenamento tenuto se a Gela, per conoscere e vivere in prima persona alcune delle situazioni professionali, che potrebbero essere quelle della loro futura esperienza lavorativa. È un metodo che già abbiamo acquisito con la collaborazione prima con la Juve, adesso con l'Udinese. Adesso l'intenzione è quella di proseguire su questa strada. Abbiamo avviato anche questa collaborazione con l'Università Core di Enna, per portarci avanti, per cercare di esprimerci al meglio, sia dal punto di vista agonistico, che deve essere anche visto come un momento di crescita per noi allenatori, noi tecnici. I ragazzi si impegnano, sono sempre costanti e presenti agli allenamenti, e ci aspettiamo ottimi risultati quest'anno. Solo attraverso il lavoro su esercitazioni già vissute in gara si hanno dei miglioramenti notevoli sotto l'aspetto tecnico e tattico. La squadra femminile della Gela Sport si conferma tra le più forti d'Italia e quanto è emerso dalla finale di Coppa Italia Lanci di atletica leggera per atleti con disabilità fisiche, che si è svolta sabato e domenica scorsi a Ragusa. La formazione allenata da Leone Zappulla si è piazzata al secondo posto nella classifica promozionale e al terzo nella classifica assoluta. Una stagione sportiva eccellente, coronata da successi e conferme quattro volte sul podio delle società di tutta Italia. La Gela Sport ripetisce che questa ennesima impresa sportiva è stata possibile per lo spirito di sacrificio e di grandi sforzi economici provenienti da tutti gli atleti e dai dirigenti che autofinanziandosi hanno potuto dimostrare con orgoglio e passione il loro valore sportivo portando Gela all'apice dello sport in Italia. Appuntamento col cinema all'antitodo di Gela in proiezione del film Lettere da Berlino. Sono due gli orari, 19.30 e 21.30. Sempre all'antitodo è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale. Il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre. Ricordiamo che l'abbonamento intero costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. E al Teatro Eschilo di Gela sabato 19 novembre alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per gli abbonati del turno A Raimondo Todaro e Francesca Tocca porteranno in scena il grande Gerswin per la regia di Turi Giordano e Manola Turi. Ci sono ancora biglietti disponibili. Lunedì 21 novembre invece alle 21.15 saliranno sul palco Gabriel Garco e Ugo Pagliai in Odio Amleto. Per informazioni il botteghino del teatro è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie.